Ciao a tutti amici di SashinMoney, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando prima di iniziare vogliamo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andremo a vedere questo sito che si chiama Bitcoin Mania che mi è stato proposto da uno di voi che quindi vado a ringraziare grazie al quale potremo minare in cloud mining dei bitcoin. Ricordo che il cloud mining non va assolutamente ad influenzare sulle risorse del nostro dispositivo quindi da quel punto di vista possiamo stare assolutamente tranquilli, possiamo spegnere il computer e fare altro che il sito minerà i nostri bitcoin in autonomia senza andare ad influenzare le risorse del nostro computer. Questo sito vuole essere praticamente un facsimilo, un fratello del più noto Rollercoin che tante volte abbiamo visto nel mio canale. Una volta su questa pagina, come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione al video, dovrete registrarvi quindi cliccando sulla voce Registration inserirete una vostra username, la vostra email, una vostra password, ripeterete la password un vostro pin code che vi servirà per apportare le modifiche all'interno del vostro profilo e per prelevare ripeterete il pin code, accetterete termini e condizioni e quindi proseguirete con la registrazione. Vi arriverà una email di verifica che andrà confermata, una volta fatto tutto quanto potrete entrare nel vostro account. Il sito si presenta in questo modo, in perfetto stile retro, come vi dicevo, un po' come il più noto Rollercoin. A sinistra abbiamo il nostro menu dove è possibile accedere alle varie sezioni, alcune delle quali sono ancora in divenire, sono in sviluppo perché il sito è nuovo e man mano lo stanno sviluppando. Io adesso sono nella sezione home e se vogliamo questo sono io seduto al computer, intento a minare i miei bitcoin. Qui a sinistra possiamo vedere anche la nostra prima scheda video che ci sarà data in omaggio, dopo andremo a vedere come grazie alla quale inizieremo a minare i nostri bitcoin. Attualmente è possibile minare solo bitcoin, in futuro arriverà anche ethereum. BMT è il token proprietario della piattaforma ed è possibile solo acquistarlo usando il saldo purchase. Dopo andremo a vedere come fare. Se li seleziono infatti c'è il tasto buy, come potete vedere un BMT ha il valore di 500 satoshi di bitcoin. Qui basterà indicare la somma quindi di token che si desidera acquistare e continuare con l'acquisto. La montare per l'acquisto sarà appunto, come vi dicevo, detratto dall'account, quindi dalla sezione di purchase. Come accade esattamente con Rollercoin? Quindi è possibile acquistare delle schede video che hanno un prezzo diverso e quindi una potenza di mining diversa. Come per Rollercoin è anche possibile giocare, solo che nel caso di Rollercoin, giocando ai giochi offerti, andremo a guadagnare della potenza di mining gratuita. In questo caso ci saranno dati dei satoshi di bitcoin. Per accedere alla sezione dei giochi basterà andare nel nostro menu e nella categoria game club troveremo tutti i giochi attualmente disponibili. C'è da dire che per ogni gioco il massimale pagato quotidianamente in satoshi di bitcoin è di 40. Come potete vedere, 40 per questo gioco e 40 per gli altri due. Quindi, grazie a questi giochi, al giorno riusciremo, almeno adesso, a portarci a casa 120 satoshi di bitcoin, considerata una sorta di faucet. Vi sconsiglio questo gioco perché questo è praticamente, scusatemi, un gioco a scommessa. Andremo a scommettere i nostri BMT coin, ecco come sono impiegati, andremo, dicevo, a scommettere i nostri BMT coin a fronte di ricevere, se vinciamo a scommessa, dei bitcoin. Appunto perché si tratta di un gioco a scommessa potremo anche perdere le nostre coin, quindi questo è un gioco che io sconsiglio. Andiamo così a vedere i giochi a disposizione. Iniziamo da questo, quindi clicco su play, qua semplicemente dovremo andare a sparare sui vari bersagli che ci saranno mostrati. In questo modo, come potete vedere, sparando a questi bersagli arriveremo ad un target di punti e quindi una volta raggiunto quel target ci saranno assegnati i nostri 40 satoshi di bitcoin. Ed ecco che ho finito il gioco, quindi i 40 satoshi mi sono stati assegnati e li ritroverò nel mio balance. Adesso passiamo a questo gioco dove praticamente bisognerà mettere insieme le coppie. Cliccando quindi su start ci vengono mostrate le varie coppie che dopo dovremo mettere insieme. Ho completato anche questo gioco, quindi altri 40 satoshi sono stati aggiunti al mio balance. Infine andiamo a vedere questo gioco dove praticamente saremo questo uccellino, se vogliamo, che dovrà superare gli ostacoli. Il gioco si presenta in questo modo. Noi siamo questa sorta, se vogliamo, di token volante. Facendo tap dobbiamo cercare di evitare gli ostacoli che si presenteranno. Anche in questo caso il massimale che potremo andare a guadagnare è di 40 satoshi giornalieri. Ecco che sto provando a giocare. Facendo tap cercherò di evitare gli ostacoli che si presentano. Devo dire che mi sta andando anche abbastanza bene. Solitamente, lo ammetto, non sono così bravo. Ecco, sono morto e quindi nel mio caso mi sono stati dati 0 satoshi. Posso ripetere, posso rigiocare, ripeto, fino a guadagnare un massimo di 40 satoshi. Queste sono le schede video. Per acquistarle basterà andare nella sezione di shop. Qui, appunto, ritroverete tutte le schede che è possibile acquistare. Come vi dicevo, ognuna delle quali ha il suo costo e quindi la sua potenza di mining. Ovviamente, più si aumenta di prezzo, più si aumenta di potenza. Dimenticavo di dire che per i primi tre giorni successivi all'iscrizione si avrà un 5% di sconto sul prezzo di ogni scheda. Ad esempio, prendiamo questa, ci costa normalmente 50.000 satoshi, scontata, io mi sono iscritto da meno di tre giorni, quindi ho ancora lo sconto attivo, scontata ci verrà 47.500 satoshi. Ha una potenza di 300 giga al secondo e una produzione giornaliera di 300 satoshi di bitcoin. Mentre, per quanto riguarda la nostra prima scheda gratuita, che ci sarà data in omaggio all'iscrizione, la troveremo qui in alto. Bisognerà semplicemente riscattarla, qui troveremo il pulsante inizialmente per riscattarla. Ha una potenza di 20 giga al secondo e quindi una produzione giornaliera di 20 satoshi di bitcoin. Come potete vedere, attualmente mi ha prodotto 17 satoshi che, cliccando sulla voce collect, andranno nel mio balance. Ho cliccato quindi su collect, mi partirà un breve countdown, alla fine del quale dovrò risolvere questo semplicissimo captcha. Semplicemente dovrò indicare il numero che vedo in figura, quindi 114. Quindi ciò che avevo guadagnato dal mining si è azzerato ed è andato direttamente nella sezione di withdraw. Come potete vedere, 17 satoshi di bitcoin. Per acquistare le schede video, ovviamente, bisognerà avere nel proprio balance l'importo richiesto. Che si può guadagnare o giocando ai giochi che abbiamo visto, attraverso il mining gratuito che ci viene offerto, oppure rimpiazzando di tasca nostra. Quindi basterà andare nella sezione replenish, qui abbiamo tutti i sistemi di pagamento che vengono accettati da questo sito, ne sono veramente tanti. Si va da payear, si passa per perfect money e poi, come potete vedere, ci sono varie crypto. Quindi basterà scegliere la valuta desiderata, indicare l'importo e proseguire con il deposito. Le schede acquistate le troveremo nella sezione mining room che si presenta in questo modo. Come potete vedere, qui c'è lo scaffale dove saranno posizionate le varie schede. Per guadagnare ulteriori satoshi di bitcoin potremo provare a risolvere le tasks che ci vengono proposte. Qui troveremo, se vogliamo, dei lavoretti che, se risolti, ci daranno ulteriori satoshi. Ad esempio, producendo un video, e questo è ottimo per gli youtuber, avremo la possibilità di guadagnare dai 15 ai 60.000 satoshi di bitcoin ogni 10 giorni. Iscrivendoci al loro canale telegram e quindi dando prova di iscrizione, ne guadagneremo altri 30. Stessa cosa iscrivendoci alla loro chat telegram. Addirittura nella sezione bank è spiegato come poter ricevere un presito da questo sito. Io adesso sono su Chrome, per chi fosse interessato può tradurre in italiano, quindi leggersi le condizioni e valutare a propria discrezione. Se si scegliesse di prelevare con un metodo di pagamento diverso dalle criptovalute, bisognerà settare i propri wallet. Quindi andare nell'area personale, sezione payment system e qui scegliere il wallet sul quale si desidera essere pagati, quindi andare a indicarlo. Per prelevare basterà premere sulla voce withdraw, quindi scegliere il motore di pagamento. Nel caso di PAIR sceglieremo anche con quale valuta desideriamo essere pagati, quindi se dollari, euro oppure rubli. Sapete che PAIR le contiene tutte e tre. Quindi indicare la quantità di Bitcoin, di satoshi di Bitcoin che desideriamo prelevare. Nel mio balance ho 17 satoshi che vengono indicati anche in questa sezione. Ci saranno delle commissioni del 5% da pagare, quindi tutto sommato se andassi a scegliere dollari mi arriverebbe un centesimo. Stessa cosa per gli euro, mentre se scegliessi rubli mi arriverebbero 56 centesimi di rubli. Per quanto riguarda i prelievi minimi si fa riferimento alle FAQ e per PAIR sono di 15 centesimi di dollaro, 15 centesimi di euro oppure 10 rubli. Per QIVI, che sinceramente è un portafoglio che io non conosco, si parla di 10 rubli. Per Bitcoin 100.000 satoshi e per Perfect Money 15 centesimi di dollaro. Devo dire che per quanto riguarda PAIR e Perfect Money, che sono dei portafogli abbastanza conosciuti, il prelievo minimo è sicuramente molto accessibile perché è molto basso. Dimenticavo di dire che tutto ciò che guadagneremo dai giochi andrà in questa sezione e ci servirà per l'acquisto eventuale di nuove schede video. Mentre tutto ciò che guadagneremo dal mining andrà direttamente nella sezione di prelievo e sarà prelevabile. Tramite la voce Exchange è possibile trasferire quello che abbiamo nella sezione Withdraw alla sezione Purchase. Per chi volesse è anche possibile acquistare i BMT, che ripeto essere il token proprietario di questa piattaforma, attraverso questa sezione. Direi che non ho null'altro da aggiungere, quindi in chiusura, come sempre, vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando vi rinvito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando, like ai video fanno sempre piacere e danno la forza di andare avanti e sostengono il canale. Ricordo che potete trovarmi anche sulla mia pagina Library, sul canale Telegram ed infine sulla pagina Facebook. Trovate come sempre tutti i link necessari in descrizione al video. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.